Qua siamo nella casa dove ci sono tutti i cofetti di marzo, Marco, dove sono stati vinti tutti questi cofetti? Ma io direi che ho meritato per quello che ho fatto nella mia Napoli, insomma. Questa è la mia Napoli, la famiglia, la casa, l'amore, il bello passato e il fagiolo che ci aspetta di là. Poi che rimane la vita? Il trionfo, l'edusiasmo, finisce, rimane da che si ricorda il capo. Paolo, vieni qua e si vede questa cosa. Ma questo se non sta qui. Come un eroe delle sue sceneggiate, Mario Merola è un capo famiglia, un paclarca che protegge, accoglie, comanda e guida parenti, amici e collaboratori, quasi a ricreare in una palazzina borghese suburbana il clima tribale e la solidarietà dei vicoli. Pronto. La mia Napoli 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 La mia Napoli